Allora eccoci, do il bentornato alla senatrice del Movimento 5 Stelle, Paola Taverna. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, la prima domanda che facciamo sempre a tutti in questa fase calda della campagna elettorale, dove è candidata lei? Io sono candidata nel Lazio, al plurinominale Lazio 1 Senato e uninominale Lazio 2 zona tuscolana. Ecco, e quindi come tutti i suoi colleghi in questa fase molto attiva sul territorio, come si dice. Allora, togliamoci subito il dente, così ci parliamo chiaramente. C'è la vicenda rimborsopoli, dove state affrontando. Sembra che, mi riferisco a quello che si legge e quello che si sa, che la somma dei soldi non restituiti volontariamente dai vostri parlamentari e che credo quella vada a integrare il fondo per il microcredito, giusto, sia intorno a un milione, un milione e mezzo di euro. Il vostro candidato premier Di Maio, il vostro capo politico Di Maio, ha detto noi stiamo facendo tutte le verifiche necessarie, le marce le sbatteremo fuori. Le faccio sentire che cosa ha risposto a Di Maio ieri Matteo Renzi, proprio qui sulla 7. Sentiamo Renzi. I 5 Stelle si sono trasformati, sono diventati l'arca di Noè, dove stanno salendo truffatori, tecnicamente truffatori, scrocconi, tecnicamente scrocconi, riciclati di altri partiti politici e massoni. Siccome io non ho l'immunità parlamentare, a differenza di Di Maio che tutte le volte la usa quando noi lo portiamo in tribunale, è un cittadino come gli altri a giorni alterni, io dico quereratemi se dico il falso. Io sto dicendo che i candidati dei 5 Stelle hanno per ammissione esplicita degli stessi dirigenti 5 Stelle uno spettro di problemi con le regole interne dei 5 Stelle e con le regole esterne che sono impressionanti. Però Di Maio ha detto che lui farà fuori le mele marce. C'è un orto frutta più che le mele marce, altro che mele marce. Questa ricorda Bettino Craxi con Mario Chiesa, il mariuolo. Ma di cosa stiamo parlando? Noi non sappiamo chi sono i candidati. Guardate, ora, non è un problema del rimborso, anche perché i 5 Stelle hanno una scelta di rimborsare dei soldi, che io rispetto. A mio giudizio è una presa in giro degli italiani, l'evocazione costante di questi 20 milioni di euro. Il fondo per le piccole e medie imprese vale 20 miliardi di prestiti alle piccole e medie imprese. Allora, facciamo così, andiamo con ordine, se ti dice Taverna. La prima intanto cosa vuole rispondere a Renzi subito, così poi invece entriamo nel cuore della vicenda. Io ho visto anche quelle che sono le liste di Renzi e credo, e mi viene da dire da che pulpito viene la predica, considerando quelli che sono gli effettivi impresentabili. Sono contenta che nell'introduzione lei ha specificato volontariamente, perché noi stiamo parlando comunque di soldi privati, non soldi pubblici. Sono dei soldi che volontariamente tutti gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno deciso all'inizio della legislatura di restituire sotto forma di donazioni. Sono delle vere e proprie donazioni. Però possiamo dire che è un accordo stringente che riguarda il suo movimento, no? È un accordo stringente che noi vogliamo assolutamente che venga rispettato, ed è per questo che io sono, prima di tutto, dispiaciuta che sia potuta accadere una cosa del genere, perché personalmente io sono una candidata, non mi sento assolutamente una truffatrice, come penso che non lo siano nessuno di coloro che si è presentato con il Movimento 5 Stelle, che ha restituito 194 mila euro, l'ho fatto dei miei soldi e li ho messi a disposizione del fondo delle piccole e medie imprese, che comunque prima del Movimento 5 Stelle non mi ricordo venisse così caldeggiato da parte dei governi come fonte di aiuto per le piccole e medie imprese. Senta, intanto le voglio chiedere... E comunque faremo, cioè non abbiamo pietà per nessuno, specialmente nel Movimento 5 Stelle. No, no, ma ci arrivo, così lei mi può dire che cosa intendete fare. Intanto è verosimile l'idea che siano una decina o più parlamentari dal suo punto di vista del vostro movimento? Perché si parla di una decina di parlamentari. No, ma io tra nei due che sono stati già individuati e che hanno restituito, non sono a conoscenza al momento di altri casi, sono state fatte e si stanno facendo tutte le verifiche del caso e chiunque sarà trovato mancante di una promessa etica che noi abbiamo fatto ai cittadini e che vogliamo che venga rispettata perché è un punto fondante del Movimento 5 Stelle sarà estromesso dal Movimento 5 Stelle e non ci possono essere queste situazioni. Così come non ci possono essere altre situazioni che abbiamo già dimostrato che nel momento che veniamo a conoscenza di qualcosa che non corrisponde a quella che è l'eticità che noi pretendiamo dai nostri candidati, provvediamo a destrometterli, cosa che non avviene in nessun altro partito. Perdoni, le faccio due domande a proposito dei candidati con cui avete avuto dei problemi. Diciamola così, siccome per esempio l'ultimo caso del candidato in odore di massoneria, mettiamola così, ha intenzione di non fare un passo indietro e nelle vostre liste se viene eletto viene eletto, non è che può essere poi mandato via. Cioè voi credete che chi sarà eletto di tutti questi candidati con cui avete avuto a che fare poi faccia un passo indietro che non è scritto da nessuna parte? Quello che possiamo assicurare è che non farà parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. Noi avevamo delle regole ben precise anche per promuovere la candidatura. Abbiamo dato credito a chi si è presentato e abbiamo fatto dei controlli che in alcune volte sono risultati mancanti sia dell'onestà da parte di chi si è proposto sia dell'impossibilità di sapere determinate cose, che una persona fosse scritta alla massoneria o sembra che così sia, non c'era veramente possibile. Però possiamo garantire agli italiani, a differenza degli altri partiti, che queste persone non faranno parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. Ecco, questa è l'esera chiarissima. E alle critiche di chi dice, siccome voi avete credo un sito, no? Dove sono pubblicate tutte queste informazioni su queste donazioni, a chi dice non siete in grado manco sul sito di garantire la chiarezza e la trasparenza come potete garantire il governo dell'Italia? Le garanzie che hanno offerto gli altri portando il Paese sull'orlo del fallimento sono sicuramente migliori. Noi abbiamo fatto tutti i controlli del caso. Ne stiamo facendo ulteriori e credo che stiamo garantendo la massima trasparenza. E tutta questa situazione vede coinvolto il Movimento 5 Stelle perché è l'unico movimento in questo momento che si è reso disponibile a restituire parte di quelli che sono i famosi tagli ai costi della politica che nessuno fa e che noi abbiamo fatto spontaneamente senza nessuna legge. Quindi credo di essere ancora un gradino sopra quelle che possono essere le critiche di chi invece non ha mai restituito nulla. C'è il Ministro Lupi che noi abbiamo portato l'altra volta ad esempio... nel suo modo di essere trasparente presenta una rendicontazione di più di 50.000 euro avuti come contributo dei quali però sono stati depennati ed oscurati chi siano i donatori. Vabbè, adesso lui, l'umino c'è, non può replicarle quindi vabbè mettiamo da parte... Ma sono documenti pubblici quindi non ho timore di nessuna smentita. No, senti, invece così chiudiamo questa vicenda e andiamo avanti. Volentieri. Lei non crede che però in qualche modo può essere stata scalfita la credibilità del vostro movimento? No, io credo che il movimento in questa faccenda sia parte l'esa. Credo che poche persone che non adempiono a quelle che sono delle regole bestringenti che noi ci siamo dati non possano scalfire quello che è un punto basilare del Movimento 5 Stelle che viene portato avanti da tutti gli eletti. E comunque ricordiamo che stiamo parlando di un milione rispetto ai 22 certificati che sono stati donati. Quindi nel momento che saranno terminate le verifiche vedremo anche l'entità effettiva di quello di cui si parla e del perché non risultino in questo momento nel conto del Mise e daremo a tutti le dovute spiegazioni ed ognuno si assumerà le responsabilità di quello che ha fatto. Io su questo sono... Giuseppe diceva Mise perché il fondo è in capo al Ministro dello Sviluppo Economico. Giusto per capirci. Senta, oggi il professor Perotti su Repubblica sta esaminando i programmi di tutte le forze politiche da un punto di vista di sostenibilità diciamo economico finanziaria dei conti. Oggi fa le pulci al vostro movimento. Do solo un dato perché non ci possiamo brecare di numeri. Secondo voi il vostro programma costerebbe circa 78 miliardi e mezzo di euro invece dai conti di Perotti il costo sarebbe di 108 miliardi il 4,5% del PIL allora io non entro in merito dell'articolo di Perotti ognuno può andarsela a leggere in questo caso su Repubblica sul sito di Repubblica e però queste ci sono scostamenti che non riguardano soltanto il movimento 5,5% e le altre partite ma come mai come mai gli esperti poi quando fanno le pulci ai vostri programmi notano che ci sono questi scostamenti così grandi? Benvenga che vengano fatte le pulci ai nostri programmi io so che i nostri conti sono stati fatti con molta attenzione e che abbiamo avuto anche la bollinatura da parte di più uffici del Parlamento che certificavano che le coperture che noi indicavamo erano congrue per quelle che erano le proposte del nostro programma economico detto questo io sono forte della validità comunque del programma che noi stiamo portando perché fuori da i conti che meno male che si stanno facendo perché ho sentito per tanti anni campagne elettorali dove si è promesso tutto e della prima volta che sono fatte anche le pulci sulle coperture è un programma organico che prevede degli investimenti dei quali l'Italia ha bisogno perché noi quando diciamo che vogliamo investire in rinnovabili non si parla esclusivamente di soldi che escono perché se tu dici che un miliardo investito in rinnovabili produce 17 mila posti di lavoro rispetto allo stesso miliardo investito in fossili che ne produce 500 è ben chiaro che quel miliardo investito darà vita è meglio speso dal nostro punto di vista esatto darà vita a un percorso virtuoso che permetta all'economia di ripartire così come tutti i soldi benedetti che riusciamo ad investire nel progetto del reddito di cittadinanza sono una boccata di ossigeno ad un paese che oggi vede e stiamo parlando di due anni appena quasi qualcosa come 4 milioni di italiani in povertà assoluta e più di 8 milioni in povertà relativa quindi a mio avviso le priorità di questo paese sono quelle di intervenire nelle fasce più deboli ed è quello che vogliamo fare le posso chiedere anche perché voi insomma avete attenzione nel programma anche a tutte le misure per famiglie e per combattere la denatalità che è uno dei grandi problemi del paese in pratica che cosa? è un problema enorme noi nel 2017 abbiamo avuto 9 mila bambini meno nati e questo sta ovviamente portando il paese a una non sostenibilità anche in previsione di quelli che dovrebbero essere le forze nuove di lavoro che si mettono nel mercato per garantire quelle che sono le pensioni di coloro che andranno giustamente in pensione noi siamo un paese che ha un'età media che sfiora ai 50 anni e le donne diventano madri ormai superate i 32 anni abbiamo guardato quello che accade nel resto di Europa abbiamo visto la nostra vicina Francia dove in realtà i sogni di noi italiani perché poi purtroppo non è che le donne non fanno più figli perché non hanno più voglia di fare figli è un po' la tendenza però tutto del mondo occidentale fare meno figli ma in Francia in realtà a 28 anni si fa il primo figlio a 32 quando noi in Italia cominciamo a fare il primo loro lì fanno il secondo ed è un po' il desiderio che hanno anche gli italiani perché io difficilmente mi incontro con donne che mi dicono no no io non voglio figli mi incontro con donne che mi dicono con famiglie che mi dicono vorrei un figlio ma non me lo posso permettere di avere una situazione economica che ci consenta di perché il Jobs Act che doveva risolvere i problemi del lavoro in realtà ha creato una precarietà ormai totale e continua per la quale non si ha nessuna garanzia di poter vogliamo investire nella famiglia vogliamo dare più che altro alle donne la possibilità di affrontare la maternità con le garanzie di poter avere sicuro il loro posto di lavoro e di avere sicure tutte quelle misure che riguardano gli asili nido che riguardano l'alternanza lavoro famiglia che gli consenta di avere sia un bambino sia il loro posto di lavoro per mantenere il proprio bambino io sono stata in commissione sanità e quando si è parlato di questo tema ho avuto il ministro Lorenzin che ha presentato il Fertility Day dove l'unico problema era quello di ricordare alle donne che superata una certa età le proprie vaglie invecchiavano e vorrei dire al ministro Lorenzin che siamo tutte consapevole che superata una certa età le nostre vaglie invecchiano ma che vorremmo avere in età più giovane l'aiuto dello Stato per consentirci di fare un figlio piuttosto che preoccuparci che stiamo invecchiando senta in questa campagna elettorale e in questo voto del 4 marzo che si avvicina a grandi passi il vostro avversario politico è il PD al centro-sinistra o il centro-destra? il nostro avversario politico sono gli italiani che non che non si fidano più della politica io non non ho un riferimento di un partito come il mio antagonista io come riferimento ho i cittadini italiani e l'unica campagna elettorale che immagino è quella di garantire che veramente il Movimento 5 Stelle è la forza politica che vuole il bene di questo paese io li ho visti operare in questi cinque anni e ho visto gli interessi di una piccola parte del paese continuamente foraggiati e parlo delle banche parlo dei petrolieri e parlo di micche del paese i poteri forti le case farmaceutiche e siamo gli unici che invece possono guardare in faccia agli italiani e dire che vogliamo fare una politica che riguardi esclusivamente loro che riguardi le famiglie e i lavoratori mi dice un'altra cosa secondo lei perché il suo movimento è molto più forte al centro-sud e non nelle regioni più produttive del paese mettiamola così tocchiamo dei temi che sicuramente il centro-sud soffre maggiormente rispetto al centro-nord se io penso a quelli che sono i tassi della disoccupazione che in Sicilia a livello giovanile raggiungono quote come il 58% e noi siamo molto attenti a quelle che sono le politiche per trattenere i nostri giovani qui in Italia ed evitare che vadano all'estero nel tentativo di cercare una speranza per la vita posso immaginare che siano questi i temi che ci rendono maggiormente forti al sud rispetto al nord e perché non riuscire a convincere anche se al nord si sta facendo una campagna di come posso dire di per montare quelle che sono le falsità che vengono sostenute perché quando noi parliamo di reddito di cittadinanza come manovra economica e viene trasformato come assistenzialismo io comprendo che regioni così fortemente impegnate alla produttività come quelle del nord la possano mal digerire ma questo non è così perché io sono l'ultima a voler dopo aver restituito 194 mila euro spendermi per rendere poi una persona fare dell'assistenzialismo con 780 euro sono delle manovre organiche che consentirebbero a tutto il paese di avere un nuovo respiro quindi anche il nord deve cominciare a guardarci per la forza innovatrice quando noi vogliamo cambiare il passo anche dell'economia e di investire anche come abbiamo detto prima in rinnovabili in dissesso idrogeologico sono argomenti che non riguardano il paese diviso in due sono argomenti che riguardano l'Italia intera perché purtroppo anche i mancati interventi sul territorio hanno portato anche nel nord situazioni assolutamente problematiche per cui ci presentiamo per tutto il paese senta lei ha girato molto l'Italia adesso si sta concentrando giustamente nell'Asio dove è candidata al di là delle speranze delle legittime aspettative lei crede che ci sarà una maggioranza dopo il 4 di marzo? Ci sarà una forza politica che avrà la maggioranza o no? Io sono convinta che il Movimento 5 Stelle si affrancherà come prima forza politica nel paese non vuol dire avere la maggioranza non vuol dire avere la maggioranza ma vuol dire dare un segnale forte anche agli altri partiti che oggi si presentano in coalizioni fittizie per guadagnare un seggio in più piuttosto che per dare al paese una forza di governo coesa noi siamo forti del programma e di come ci presentiamo agli elettori per noi è la strategia vincente piuttosto che partiti del 15% o del 20% che immaginano di unirsi dopo assenti di un progetto comune esclusivamente per avere la famosa maggioranza di governo credo che presentare ai parlamentari e all'arco parlamentare un programma valido per il paese e chiedere a loro di aiutarci a realizzarlo per il bene degli italiani è la mossa vincente allora grazie a Paola Taverna saluto intanto grazie a tutti